Una buona serata e bentornati a Weekend Sabato, la Puglia contro il coronavirus. Nella copertina firmata dalla nostra redazione il primo weekend con il coronavirus, ma anche nelle immagini che avete visto, dall'ino di mameli alla vita bella, case pulceneia, gli applausi di tanta gente nei confronti di quei medici ed infermieri che sono impegnati in tutta Italia per fronteggiare e combattere questo virus da cui si spera si possa uscire quanto prima. Le notizie oggi sono importanti. Da una parte l'intesa era tra sindacati ed imprese in cui è stato firmato un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Dall'altra i casi che proseguono ed anche i morti. C'è una prima vittima tra gli operatori del servizio sanitario di un giovane operatore tecnico del 118 morto la notte scorsa dopo essere stato contagiato in una centrale del 112 tra Brescia e Sondrio. Intanto domani dovrebbe svolgersi il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto con le misure economiche per far pronte alla emergenza. Intanto il governo sta lavorando anche l'ipotesi dello scopo alle scadenze fiscali per tutti e il calo anche delle bollette allo studio per alleviare famiglie ed in imprese. Due nuovi casi di positività tra i politici. Dopo Luca Zingaretti, segretario del Partito Democratico, è capitato ad un vice ministro alla salute e anche alla vice ministra che è in isolamento. Intanto un consigliere regionale della Lombardia è stato ricoverato in intera via subintensiva all'ospedale di circolo di Varese. Insomma una condizione certamente non service ma bisogna avere pronte comune per sconfiggerlo. Adesso andiamo ad occuparci della situazione in Puglia e soprattutto di quell'esolo dal nord per tornare nel nostro paese. Di questo se ne è fatto portavoce e anche molto preoccupato il governatore regionale Michele Emiliano. Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare. Avrete probabilmente esibito ai soldati alle stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno. Spero almeno che abbiate le maschere e che teniate la distanza di un metro l'uno dall'altro in treno. E questa c'era stata anche una forte protesta di coloro che si trovavano all'interno di treni stessi tra macchinisti, conducenti e naturalmente gli addetti alla biglietteria all'interno dei vari treni. Adesso facciamo un viaggio, incominciamo a vedere com'è questo primo weekend a Cerignola nel Foggiano. Vito Balzano da NotiziaWeb.it